Buonasera dal Tg della mobilità, domani e domenica stop dei treni sulla metro C per lasciare spazio ai lavori di prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo. I treni saranno sostituiti da bus delle linee MC e MC3 che seguono il tracciato della metro. Questo sarà il penultimo fine settimana di chiusura della metro C, il prossimo appuntamento sarà l'8 e il 9 maggio. Le altre notizie, treni covid free da oggi tra Roma e Milano, il primo è partito alle 8 e 50 di questa mattina dalla stazione Termini, l'altro alle 18 da Milano Centrale. Ha così preso il via l'iniziativa di Trenitalia per i viaggi in sicurezza, a bordo solo passeggeri negativi al covid-19, la capienza dei treni resta però al 50%. Per i passeggeri previsti tamponi gratuiti anche in stazione. Per il momento è tutto e per questa sera è tutto, il Tg della mobilità torna domani mattina. Per il momento è tutto, il Tg della mobilità torna domani mattina.